L'altra del campo, di certo non ci si annoia Avanzano con una intricata rete di passaggi Occhio può andare, chance per tirare La palla supera la linea di porta Qui hanno difeso benissimo in avanti, andando a recuperare una palla preziosa Poi devi anche essere bravo a ripartire con rapidità E lì hanno davvero fatto la differenza Butta per l'equipe del Stade Renner Dopo 15 minuti di gioco Il numero 21 Il numero 21 è stato progetto